Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Radio Tomodashi, la prima dopo la mia assenza giapponese e dato che è da tanto tempo che non facevamo, che tanto saluto la gente in chat, poi come ogni abbonamento lo leggo successivamente dopo le due ore di puntata dato che sono tornato qua di nuovo a questa magnifica scrivania dopo due settimane in Giappone e a Tokyo ho deciso di trattare un argomento che mi riguarda particolarmente, che non riguarda solo me ma anche gli ospiti che vado tra poco a presentarvi ovvero il collezionismo, parliamo di collezionismo però in maniera un po' diversa, cioè che cosa rappresenta non solo per me ma anche per le persone che ho qui davanti che collezionano cose un po' simili a me, un po' diverse, che cosa rappresenta per noi collezionismo, perché è giusto collezionare, perché non sarebbe giusto anche collezionare pregi e difetti di avere un hobby simili, soldi, non soldi, investimenti, anzi no, investimenti chi cazzo se ne frega parliamo solo di passioni e soprattutto dopo alle 22.45 entrerete anche voi a partecipare se volete contestare i nostri hobby se volete contestare il fatto che spendiamo migliaia e migliaia di euro in stronzate noi saremo ben consci e ben accetti anche alle vostre critiche, ci mancherebbe quindi vado a presentarvi gli ospiti di oggi, che è un onore per me, uno dei due era già venuto qua e aveva già partecipato con Masella a una live meravigliosa gli ospiti di oggi sono Filippo Troppo Ricco e Andrea Palmetta, due collezionisti di serie A, possiamo dire, siete dei grandi, ve lo dico io, siete dei grandissimi collezionisti magari spostatevi un pochino più sulla sinistra tutte e due, almeno, che non avevamo fatto, ecco perfetti, siete meravigliosi allora innanzitutto, che cosa collezionate e che tipo di collezionisti siete? io nasco come trader di carte magic, però con il tempo viaggiando per tutto il mondo e conoscendo collezionisti che vicino, grazie al microfono collezionisti e persone di tutto il mondo e di tutte le discipline, mi sono trasformato anche in un collezionista perché sempre volevo trovare qualcosa di nuovo, qualcosa di differente, qualcosa difficile da trovare e qualche rarità e completare le collezioni che avevo e soprattutto conoscere tutto quello che esiste in principio magic, poi sono passato ad altre discipline per avere come una biblioteca universale bello che le chiami discipline, sono dei manti, delle religioni proprio, assolutamente, bene e da quando hai iniziato te? io ho iniziato, verso i 18 anni che giocavo a magic, lì a parte giocatore e collezionista perché sempre ho voluto finire il set, volevo il set delle carte a bordo nero, il set di leggende dopo ho smesso, ho continuato a studiare, quando sono andato in Spagna a studiare per il progetto Erasmus ho visto che c'era un po' di differenza di prezzi e di tipo di carte che si cercavano tra un paese e l'altro e lì ho iniziato ad essere trader e collezionista per avere tutto quello che c'era in Spagna e tutto quello che c'era in Italia e da lì è scalato fino all'infinito mondiale bene, invece te Andrea? allora diciamo che non mi ricordo quando ho iniziato, nel senso che l'ho sempre fatto, cioè fin da quando mi ricordo ho collezionato un po' di tutto, dalle figurine dei Pokémon, ai Pog, ai Monster in my Pocket mio fratello alle carte dei Pokémon, poi sono diventate magic e degenerata tutta la cosa perché lì mi è sfuggita proprio la situazione dalle mani giocattoli vintage, disneyane in generale poi ho visto che sei rifinito a collezionare addirittura la firma di Walt Disney quindi sei andato oltre dai pupazzetti, dalla gadgettistica, volevi proprio un pezzo di lui sì, giusto, giusto ma poi gli autografi mi hanno sempre affascinato al di là di Walt Disney ma anche personaggi dallo sport, artisti infatti per esempio per le magic io colleziono prevalentemente carte firmate, alterate, schiacciate però sì per quanto riguarda quindi non vuoi la carta pulita, vuoi qualcosa esatto, cosa che gli dia ancora più personalità nel senso la carta pulita è bella, affascinante per quanto sia rara, in condizioni perfette però la carta firmata, artworkata, con quel qualcosa in più anche a me piacciono molto anche quelle, le prove di stampa le carte stampate male, le misprint, miscut quelle che per molti sono carte da scartare io le trovo affascinantissime e da collezionare appunto per te diventano dei tesori esatto poi la cosa che mi ha portato poi a invitarvi è che voi oltre a essere dei grandissimi collezionisti a parte che vivete l'hobby in maniera molto bella cioè positiva, non tossica, niente rivalità, niente invidia anzi c'è condivisione addirittura avete dei prodotti che collezionate in due cioè ve li tenete un po' voi, un po' te, un po' lui quando ho iniziato ad essere abbastanza collezionista e cercavamo delle cose molto estreme, molto uniche le volevamo tutte e due il problema è che quando c'è un errore estremo o quando c'è una firma, un'alterazione molto difficile da trovare e la volevamo tutte e due allora siamo amici abbiamo una collezione che è di tutte e due e come funziona? Come ve la gestite? evidentemente le tengo io le tiene lui perché magari intanto mi ha in voglia di venderle allora io ah ok, hai proprio una droga quindi anche quella la voglia dell'affare, della vendita ok ok ecco io passerei direttamente al tema vero e proprio perché ora vi ho chiesto come avete iniziato però mi piacerebbe anche capire che cosa rappresenta per voi il collezionismo ovvero che cos'è per voi questo hobby? che cosa rappresenta la passione del collezionismo? fa parte di voi, è una cosa di cui avete bisogno è una droga oppure è una roba che serve a socializzare a creare nuove amicizie che cosa ha rappresentato? per me rappresenta il poter o chiudere un circolo o possedere una parte di qualcosa ad esempio comprare il Michael Jordan rookie è come possedere una parte la carta la carta, esatto è come possedere la parte più iconica del basket e quindi quando si parla di qualcosa iconico a me piacerebbe sempre avere il Michael Jordan il Messi o il Ronaldo e possedere parte di quella io le chiamo discipline però a fine di quelle cose lì lo abbraccerò e l'altra parte del collezionismo è chiudere un circolo se sai che c'è una collezione che è tipo l'anorarity dei pokemon per esempio si vabbè dice così perché mi ha venduto delle norarity fino a 5 minuti fa a tavola a tavola a ristorante e finché non hai tutta la collezione non ti senti tranquillo vuoi vedere tutto il tuo set quello è collezionare finire un circolo chiudere un circolo o possedere una parte o chiudere un circolo ma quindi anche te hai questa soddisfazione di mettere l'ultima carta l'ultimo buco esatto e cosa provi in quel momento? è che hai chiuso il circolo e quindi sei contento? no ma l'emozione il tipo di emozione cosa c'è a cosa la puoi paragonare? ti gaso non lo so sei contento sei felice sei felice perché io ho notato che quando faccio acquisti su ebay e finalmente trovo quel pezzo che dico cazzo ma l'hanno finalmente messo in vendita e lo acquisto in quel momento i 15 minuti che succedono e diciamo la vendita sono molto più esagitato molto più eccitato a parte il comprarla quando la trovi quando la trovi già sei gasato e devi comprarla è un consiglio che sempre do a tutti i collezionisti appena trovi un pezzo che ti manca non tentennare e compralo quella è la regola numero uno assoluta che impari dopo tante 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 tanti anni di non comprare ok e per te Andrea invece la stessa cosa? per me è un'avventura il collezionismo nel senso che non sai mai cosa ti puoi aspettare dagli oggetti che stai cercando perché prima di tutto non sai quando ti può saltare fuori il pezzo che stai cercando poi però quando salta fuori magari lo compri ok finisci il tuo progetto come diceva lui però in realtà non è mai finito il collezionismo salta sempre fuori qualcosa di nuovo una variante qualcosa che non pensavi esistesse che magari documentandoti scopri che c'è e quindi è un'avventura una caccia al tesoro quindi secondo te non finirà mai? no mai fino alla fine? è una cosa che solo un collezionista può capire e come farla capire alle persone comuni all'uomo della strada che spesso no dice scusa ma come fa sai la classica frase questo pezzo di carta a valere 40.000 euro te come gliela spieghi una roba del genere come gliela giustifichi tra virgoletto eh chiaramente allora ogni cosa ti deve dare un'emozione io colleziono un determinato oggetto perché possedendolo o avendolo tra le mie mani mi dà un'emozione una gratificazione e quindi è una cosa che ti fa star bene come magari ti può piacere andare a giocare a golf tu stai bene mentre giochi a golf sei in mezzo alla natura aria fresca così collezionare è una cosa che ti fa star bene magari per noi invece che andare a una partita di pallone ci piace andare a un torneo passare un weekend comunque tra amici che è una cosa bella e tutto ma ci piace andare alle fiere Stati Uniti o comunque Italia indipendentemente da dove sia a cercare dei pezzi che e a condividere anche i momenti insieme sì però sempre c'è un momento che vi lega insieme legato al collezionismo? noi a parte il collezionismo quando troviamo cose rarissime quindi ci casiamo è più che altro il viaggio e le gag che facciamo tra di noi molto divertenti io prima di tutto ero un suo cliente prima che un amico poi però con gli anni dopo i viaggi che abbiamo fatto e tutto è diventato praticamente il mio miglior amico e noi diciamo sempre dopo i nostri viaggi o anche durante dovremmo avere una webcam o una action cam attaccata alla spalla per documentare tutto quello che succede le risate le scene comiche tutto quello che ci succede durante un viaggio durante un weekend perché alcune cose sono davvero davvero bellissime a volte riascoltiamo i messaggi audio che gli diamo agli amici li salviamo ci mettiamo lì li riascoltiamo e ridiamo tantissimo ripensando a quelle scene e qual è il pezzo che avete trovato insieme di cui siete più orgogliosi o che vi lega di più cioè tipo magari una carta o una roba che avete trovato insieme o una cosa che avete in condivisione che vi lega veramente tanto la Yammer Wheel con il Black Lotus è una delle più più di quel che ricordo di più la X-Foil ah la X-Foil poi l'abbiamo trovata proprio in fiera un filler X-Foil che cos'è un filler X-Foil? è il filler è la carta che viene messa in un uncut sheet quando finiscono le carte Magic va bene anche i Pokemon però quindi il foglio di stampa con le carte tutte attaccate pronte da tagliare quando finiscono le carte normali da stampare perché sono il numero di is non ho già messo quelle che devo mettere in basso a destra mettono delle carte con un codice a barre o con delle prove con delle X che poi dovrebbero essere buttate via ma ogni tanto finiscono nei pacchetti e c'era questa X-Foil che abbiamo trovato in un torneo e l'abbiamo comprata che non era solo una X era anche unica al mondo completamente nera con una X argento quindi foil in mezzo alla carta conosciuta come unica copia al mondo e appena l'abbiamo trovata niente l'abbiamo presa subito e per un po' è rimasta in collezione poi l'abbiamo scambiata con un collezionista proprio di filler ci sono i collezionisti di filler specializzati perché quando inizi una collezione o una disciplina come dicevo prima cerchi prima fai la collezione normale dopo vuoi la carta che è uscita con l'errore poi vuoi l'artist proof poi vuoi quello che si è usato per farlo nella fabbrica vai sempre alla fonte e ognuno è specializzato in ogni tipo di set o di errore o di di firma o di alterazione o di curiosità c'è proprio un mondo dentro nel collezionismo ha tantissimi mondi dentro se stesso e voi cosa siete specializzati? io in tutto lui è il dragon l'el dragon del magic sia come venditore sia come collezionista volevo avere la biblioteca più completa di tutto dai tappetini a te piace wizards proprio il mondo esatto tutto quello è legato a wizards anche librettini posaceneri frisbee monete tutto tutto di wizard sono specializzato sia per conoscimento sia come collezionismo quindi te vai comunque anche a studiarti artisti artwork tutto non è che ti fermi al valore no 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 fino al massimo più più a fondo possibile per essere il più completo sia come collezionista che sapere cosa sto trattando cosa sto vedendo poterlo spiegare al cliente perché molti dicono cosa mi ma ho finito questo cosa che posso perché succede che il cliente ho finito questo set cosa posso comprare cioè chiedono a me cosa possono comprare perché vogliono andare avanti come dicevamo perché non c'è mai fino è vero è vero io principalmente in magic sono specializzato nelle carte firmate e alterate e appunto misprint test print e miscut che sono quelle tagliate male dove si vede magari due carte nella stessa nella stessa quella cosa ti eccita sì tantissime è perché comunque sono uniche quindi avere un oggetto unico nel suo genere è una cosa che mi fa provare una bella emozione i collezionisti quando ci sono questi errori studiano i processi di stampa della wizard alcuni addirittura studiano quante linee deve avere la crimpatura che è la chiusura dei pacchetti per vedere se è reale o no la crimpatura sulle carte se si arriva al a foline sì 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 ma io non so se riuscirei mai io mi fermo ai set normali cioè io voglio le carte pulite non alterate però ho un'ammirazione per le alterazioni enormi come l'artista va a aggiungere dettagli a aumentare sì c'è un moscerino ad aumentare le carte a espandere l'artwork quindi insomma io forse forse non c'erei non riuscirei a fare una roba del genere e invece qual è l'aneddoto che vi ha colpito di più scavando appunto nella storia di wizards o nella storia anche del vostro hobby cioè l'aneddoto che vi ha veramente lasciato con io ho visto robe che avete che boh sarebbero ore e ore di aneddoti impossibili è stato un po' tutto realmente graduale quindi perché all'inizio la gente stavamo parlando nel video con Masella ieri dei playtest cioè le carte prima della creazione delle vere carte e ai tempi non si sentiva neanche parlare dei playtest solo ultimamente sono iniziati a uscire è stata una scoperta graduale per spiegarlo al pubblico i playtest sono praticamente delle carte di prova delle carte proprio prototipo che a volte somigliano proprio a dei foglietti dei cartoncini che si utilizzano per giocare le prime partite per vedere se il mazzo gira bene se le carte funzionano se le regole insomma matchano tra di loro ecco poi si passa alla carta definitiva artwork layout eccetera spiego perché insomma sono cose veramente specifiche e quindi scusa sentito lui ha una beta cioè una serie di playtest spiegalo te racconta un po' cosa c'hai la beta è proprio la prima non si sa se è stata fatta un alfa però la beta è il primo foglietto e ieri abbiamo fatto vedere che è proprio un croquis una schifezzina fatta con un scherzettino un dudolino esatto è stata fatta prima la prima prova che ha fatto Richard Garfield il creatore di Magic per vedere come il gioco che aveva nella mente potesse funzionare allora ha stampato queste cosina qua sono molto molto rare perché in teoria ce le ha solo Garfield e i playtester attorno a lui e alcune sono state perse poi erano veramente di carta già distrutte e alcune qualcuno collezionista o qualcuno che ha detto magari in un futuro possono valere e le ha tenute da parte e adesso le ha vendute sono arrivate fino a me si o direttamente i playtester che le hanno tenute di ricordo infatti noi conosciamo uno dei playtester che ha creato e sviluppato il gioco insieme a Richard Garfield e ce le siamo fatte autografare sul rete anche noi per ricordo perché comunque quindi ci vuole anche una rete di contatti enorme per poter ottenere queste cose ecco perché io penso tutte le volte che parlo con un collezionista ai vostri livelli mi viene in mente sempre il cercatore di tartufi perché il cercatore di tartufi è la stessa cosa cioè lui va a giro nei soliti posti tra l'altro va di notte a orari improponibili per non farsi seguire da altri cercatori di tartufi che vanno a scovare la sua zona e poi è quel giro di contatti per venderli ecco è così anche nel vostro mondo sì a me e poi anche lui piace molto viaggiare ma viaggiare comporta che ti muovi in varie zone scopri differente mode differente carte in tutto il mondo differenti oggetti in tutto il mondo la cosa che sì è un po' cercare dei tesori ma la cosa più importante è avere una buona reputazione e poi specializzarsi in qualcosa ad esempio se qualcuno ha da vendere una collezione di carte alterate sa che palmetta e sarà potenzialmente interessato e fa anche una buona valutazione quindi molte volte sia per le alterazioni sia per le rarità mi chiamano direttamente cioè non devo più andare a cercare il tesoro ma mi arriva direttamente a me però è stato frutto di tanti tanti viaggi in tutto il mondo sia a Giappone sia in Malasia sono andato in America da tutte le parti sempre parlando con altri collezionisti altri trader ci sono sempre trovati bene e da lì da lì mi conoscono e mi offrono le cose però sì bisogna fare un bel lavoro di viaggiare una bella gavetta e come si crea una buona reputazione nel mondo del collezionismo non inculando nessuno bisogna essere sempre corretti trasparenti in tutto sia nelle valutazioni di una cosa che non ti interessa sia nella valutazione di qualcosa che ti interessa magari tu la vuoi comprare fai una valutazione giusta lui te la vende però non l'hai fregato tra virgolette l'hai pagato al giusto idem per i venditori sì a lungo termine sempre hai il ritorno perché si sparge comunque subito instant prima no adesso istantaneamente ormai internet basta mettere un messaggio al gruppo telegram magari dentro tutti i collezionisti più grandi di magic fine anzi a volte qualcuno parla male di me di lui noi abbiamo talmente una buona reputazione che tutti dicono ma cosa stai dicendo e ce lo fanno sapere tutto gli vanno contro tutti proprio perché comunque a me fa piacere questa cosa hanno una buona opinione di noi e quindi ci difendono direttamente anche se qualcuno ci parla da dietro e ci sono anche grandi collezionisti con una cattivissima reputazione sì e come hanno fatto? ci sono grandi collezionisti con cattiva reputazione grandi businessmen con cattiva reputazione dipende come ti sei comportato nel passato però è così è normale non è che tutti i collezionisti sono buoni molti sono cacciatesori proprio sono collezionisti cacciatesori nascono come cacciatesori cioè ghost digger che stanno lì in facebook aspettando che qualcuno fa il post poi invece che scrivere le PM gli mandano il PM in segreto io ti offro questo sono amico di questo ma invece non è vero fanno di tutto fanno di tutto è come normale per lì e lì si arriva al momento dei soldi solo per i soldi per pagare la cosa poco averla e pagarla poco cioè ma ok quindi dici che non c'è nessuna passione alla base solamente marketing o alcuni pagano poco però se la tengono in generale però hanno pagato una cosa che vale 2000 l'hanno pagata a 200 e poi se la tengono perché sono collezionisti però non gli hanno fatto l'offerta corretta ok e invece qual è stato il vostro il pezzo migliore il pezzo a cui siete più legati perché voi tra l'altro avete anche un'altra particolarità che mi piace molto dei collezionisti ovvero che se avete un vostro pezzo che vi siete cercati vi siete sudati che avete trovato e comprato difficilmente anche se qualche collezionista vi offrisse uno scambio per quel pezzo lì glielo date nonostante magari la carta sia in condizioni migliori o altre perché è il vostro pezzo cioè il vostro tesoro che vi siete trovati ecco ce l'avete un pezzo così che non dareste mai per niente al mondo è un Black Lotus Unlimited che mi ha fatto a me personalmente Christopher Rush che non c'è più tra l'altro non c'è più e non lo vendo non lo vendo non mi interessa cioè t'ha fatto un disegno a me sì l'alterazione davanti a me firma tutto io e poi l'ho fatto anche firmare da Garfield bellissimo a Nebraska a Nebraska dove l'ha invitato il masco esatto invece a Andres allora io ne ho un po' sinceramente lui tiene molta più roba diciamo che sono un po' come Gollum con l'anello il mio tesoro non me lo tocca nessuno per quello che tiene nostra carta per quello che le tengo io così però il mio pezzo castellare con tutte le chiavi che apre esatto il mio pezzo preferito penso che sia la Force of Will quella con lo Yuzam e tutti i mox disegnati sopra l'ho portata poi dopo se volete la facciamo vedere certo abbiamo anche tante cose da fare anzi fra poco le vediamo sicuramente insieme quella è molto bella è uno degli artwork che mi piace di più l'ho commissionato direttamente io alla disegnatrice che adesso è uscita un po' dal giro non prende più commissioni quindi anche questo la rende ancora più rara è stata l'ultima commissionata tra l'altro e è venuta molto bene mette insieme tutte le carte iconiche di Magic e le è venuto davvero un gioiello un gioiello e poi mi ha colpito molto l'aneddoto che mi hai raccontato a tavola che ti hai sbustato personalmente da bambino un Charizard prima edizione set base italiano che secondo me è insieme a Norarita il più bello della storia di Pokémon e ci hai giocato ma già ai tempi eri lungimirante le mettevi nelle sleeve ero l'unico dei miei amici con le sleeve infatti mi chiedevano dove le prendessi e tutto e le prendevo a Sanremo in un negozio di videogame che le vendeva singolarmente vendeva una sleeve tu andavi lì e dicevi mi servono 20 sleeve lui le tirava fuori dal pacchetto e te le vendeva perché era una cosa molto scusate molto rara ai tempi non ce n'erano come adesso e quindi andavi lì gli chiedevi le sleeve io di solito le avevo per un mazzo e per quelle che mettevo via nel raccoglitore e le ho sempre tenute lì dentro i miei amici le mischiavano senza sleeve e tutto io invece anche i mazzi le avevo con le sleeve il charizard l'ho giocato l'ho tenuto nel raccoglitore l'ho fatto vedere ai miei amici l'ho tenuto in mano e tutto dopo anni e anni l'ho appena fatto gradare e ha preso un punteggio ottimo ha preso 8 e mezzo che per un italiano è molto con 2 9 e mezzo tra l'altro 2 9 e mezzo un 9 e un 8 in surface però quello ha rovinato un po' la media ma è bellissimo è perfetto ecco allora partirei proprio dal charizard di andrea per far vedere qualcosa che avete portato così magari parliamo anche di collezionismo attraverso gli oggetti che avete portato e io li farei vedere insomma tirateli fuori volentieri così si eccitano anche un po' nel mostrare nel flexare anche perché non hanno solamente carte hanno portato un po' di roba vuoi partire te e andrea mettiamo dalle carte vai vai faccio vedere io sì poi ovviamente mostriamo l'unica cosa che ci hanno dimenticati di rispondere che ci tenevo quando tu hai detto che molta gente dice come fa una carta a valere 40.000 euro un pezzo di carta e dobbiamo fare capire che ognuno ha il suo hobby o crede in un oggetto in un altro come la gente va al ristorante e prende una bottiglia di vino da 100 o da 200 o da 10 15.000 euro e dici come fa una bottiglia di vino a valere 15.000 euro tu hai il lobby del vino io ho il lobby delle carte questo devo sottolinearlo perché la gente spesso pensa no le carte e dice che le carte sono carte o solo per giocare giocatori però invece sono un buon oggetto da sia investimento che collezionismo ovviamente quelle che valgono tanto è perché è difficilissimo e ce ne sono poche ce ne sono pochissime sono rare quindi è giustificato il fatto che abbiano quel valore ecco io direi di passato vedo l'alterazione di cui mi hai parlato prima intuisco è questa l'alterazione madonna raccontami un po' come è andata perché qui vedo i mox il black lotus e lo yuzan e praticamente sono vabbè banale dirlo perché sono le più iconiche ma sono comunque le mie preferite anche force of will è diventata una delle mie carte preferite proprio perché è una di quelle che si presta di più alle alterazioni perché la nielsen è appunto la disegnatrice è tra le più brave e poi che firma bellissima molto bella fluida bella circolare molto molto bella e poi ce ne sono altre per esempio molti non lo sanno ma queste due sono la stessa carta e il disegno è fatto su a pennelli quindi sembrano carte diverse ma è solo perché li hanno disegnato sopra tra l'altro scream ghost face insomma poi la force of will che brucia addirittura bellissimo e poi qui abbiamo una serie di loti vedo un caos orb dentro una mana crypt quello è bellissimo perché gli da un effetto tridimensionale è fantastico vederlo di persona sembra proprio che esca dalla carta madonna ok qui abbiamo dei loti sì quello è collector edition quello lì col drago però è davvero molto difficile trovare degli artwork di rush con quel con quel livello di dettaglio hai il biglietto da visita sì sì quello è il suo biglietto da visita questo è un token con il loto disegnato dentro tra l'altro mi sembra c'è un token di anglue no dio sera la planes la planes la pianura ok la planes di anglue che era di grande disegnata da lui comunque e gli ha fatto un black lotus poi la prima della pagina è comunque una forza will quindi fatta dalla stessa disegnatrice della carta con lo yuza maimox però con il black lotus che è la carta più iconica di magic posso sfogliare sì certo certo non ne ho portate molte ma bastano secondo me cioè va bene quelle due lì sono state fatte da un artista che secondo me se non il primo sì il primo a pari merito con un altro il migliore alteratore di magic e artista comunque perché era lui l'artista ufficiale della carta purtroppo è morto però aveva un livello di dettaglio incredibile devo dire anche questi sono iper tridimensionali sembrano sbucare fuori dalla carta intanto in chat chiedono ma tenere le raccoglitori così non è rischioso anzi ha usato rischi quindi sicuramente un demente però se gli vuoi rispondere vai pure diciamo che a me piace comunque sfogliarle ogni tanto le metto nei raccoglitori quindi non si non rischiano mai di cadere per terra o essere danneggiate doppia sleeve doppia sleeve che comunque le protegge non no non rischiano sono raccoglitori non anadelli quelli anelli amore si potevano rovinare le carte ma in questi qua no e questo che cos'è si sono dimenticati di stampare allora quella è una filler quelle che parlavamo prima però lì è anche un test di un nuovo tipo di foilatura non so come si dice si si foilografia che stavano studiando infatti se vuoi puoi tirarla fuori sicuro? si si vai tranquillo è un po' più spessa di una normale proprio perché era un test e quindi hanno usato magari è vero eh si 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 e quel però l'hanno scartata si 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 non è mai uscito quindi hai un test di un foil che forse wizards avrebbe usato ok invece qui abbiamo quella è una delle playtest di cui stavamo parlando prima eccola perfetto quella è epsilon bellini però però molto belli e questa roba della birra? quella lì non so come sia successo secondo me rimanendo a tema di birra erano ubriachi in quel momento hanno usato un foglio che era per sotto bicchieri di birra per stamparci dall'altra parte delle carte di magic mamma e invece oddio questo è proprio cos'è questa? quella è molto particolare è un playtest anche quello o un errore? no mi sembra un playtest è un test per stampa di colori ah scusa test print hanno stampato due volte al limite di un antiquities nella stessa cara boh si si cioè sono proprio dei frankenstein stranissimi questi si queste qua sono molto molto difficili da trovare quella lì in mezzo è una questa qua si un test di antiquities che hanno stampato con lì mi sembra che gli manca il layout di colore nero si o non so se vogliono fare una prova messa al contrario mister collezionista me l'ha fatta vedere prima questa era così e poi ha messo il coso di birra per mostrarla con la birra era prima si si poi la metto a posto io mamma mia che dementi che dementi diamo dai andiamo avanti quella lì col bordo bianco è bella da far vedere perché dall'altra parte c'è una sorpresa ecco l'ha messa a posto a storte per fare le sorprese no oddio cristo ecco qua fai vedere stesso stesso lato cioè dal lato opposto c'è la stessa carta però con i bordi diversi eh si magic magic ho visto e questo secondo me questo è il bordo più bello comunque stranissima quella è bellissima ma è anche sfocata poi si 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 è un antiquities e dietro ne esistono pochissime al mondo sono pezzi unici ce ne sono dieci mi sembra dieci si cambia la carta davanti il dietro è uguale a tutte ovviamente però la carta davanti è diversa quindi è praticamente unica no non ne ho portate altre solo le prime due no no ma va va benissimo ce n'è una bella da raccontare prova a girare e vabbè quella sono io ah e questo sei te egocentrico no no ma ci sta è una bella idea posso eh vado eccoti vai spiega un po' racconta un po' no niente sono molto amico del disegnatore di quella carta e così un po' per scherzo gli ho detto gli ho chiesto di disegnarmi nel test nel disegno dell'immagine di cambiare il personaggio che era raffigurato con la mia faccia quindi se reprimere tra l'altro si poi questa qua è per collegarci alla mia altra passione che sono i giocattoli vintage questa qua in particolare l'isola di fuoco da dove è iniziata tutta la mia passione per quel tipo di oggetti e queste carte sbagliate chiedono dove si trovano nelle bustine oppure alcune arrivano fino alle bustine mentre altre da ex dipendenti wizard e altri collezionisti ok ok sempre dal giro di cui parlavamo prima poi cosa volevate mostrarci ragazzi allora vai io a parte del magic poi ho avuto un momento del collezionismo dove ho detto voglio collezionare di ogni disciplina la cosa più iconica si e quindi ad esempio mi sono andato a prendere che è gradato vai il super mario bros siamo anche in te è uscito il film si bellissimo super mario bros della nintendo sigillato e anche gradato con questa tecca di plastica viene dato un vuoto al tipo di siled e alla scatola se non ha preso colpi sugli angoli eccetera e poi in più abbiamo qua scritto trius criucart perché se ha o non ha l'aggeggino quello per attaccarlo alla libreria cambia tantissimo è completo o non completo perché molti non lo sanno ma ai tempi nei negozi di videogiochi c'erano degli tipo non so nemmeno come definirli degli agganci dei pezzi di metallo dove si inserivano i giochi proprio appesi come decotechini dall'alto si vede qua la parte che si tirava su e molte volte veniva tolta perché non si appendeva e si metteva nella libreria per venderlo a mano e quindi così è completo il collezionista definitivo vuole il gioco completo full optional bellissimo quindi te volevi diciamo il graal di ogni hobby di ogni disciplina perfetto per esempio nel gameboy il mitico è il tetris chiaro anche questo sealed se si può è meglio sempre comprare sealed e gradato in questo caso sarebbe stato meglio se non ci fosse stato il prezzo staccato qua sarebbe stato più puro o nota più alta ok però averlo già va bene quindi anche le aziende di grading tengono conto di questi fattori prego questo è veramente assurdo vuoi anche spiegarlo tu no no fai pure no no io l'ho visto ho tremato ah perché non ti ricordi no che la Tengen al fin fine l'aveva prodotto ma non aveva pagato i diritti certo e quindi è stato eliminato dal mercato ci sono pochissime copie e siccome qualsiasi cosa che a parte del normale aggiunge una storia in più secondo me è un valore aggiunto e mi interessa saperlo o comprarlo se posso e quindi me lo sono comprato e questo è il mitico Final Fantasy la versione americana il primo che è uscito Final Fantasy 7 il più iconico dei Final Fantasy è per la Playstation e perché l'hai preso in versione americana? perché lo grava no perché è uscito prima sempre in occidente hai preso ok sempre si pensa e si cerca di prendere il primo tipo il rookie dei calciatori la prima versione alpha in magic in pokemon la first edition sempre si cerca di prendere la prima versione in miglior stato possibile parlando di rookie ho comprato anche il Messi purtroppo per adesso un PSA 3 però ce ne faremo una ragione ce ne faremo una ragione questo è molto molto bello la rookie di Messi così accontentiamo anche gli sportivi della scienza non sono molti ma comunque per il basket Michael Jordan questo è molto molto bello ma poi nove sì quello è bello vero ero stato fortunato a prenderlo prima ah l'hai preso quando l'hai preso tanto tempo fa questa è dell'86 87 ah le Fleer ok bellissimo oddio questa è pesante questa la conosco anch'io che non so niente di sportive Mickey Mantle quella è la carta più iconica del baseball in assoluto questa è leggera allora non mi ricordo se era questa o l'altra che lui non aveva dato i diritti di immagine per la carta non mi ricordo se era questa lui non voleva uscire nelle carte per quello che vale così tanto sì 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 quella è proprio grossa questo è proprio un gral totale tanto belle sì 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 tieni oh oh questo sei te questo sono io questo questo è un 10 però ce l'ho anch'io io ce l'ho ovviamente nel binder perché io le voglio nel binder però questo è un drago bianco DDS ovvero si trovava solamente nella copia del gioco Dark Yu-Gi-Oh Dark Duel Stories se si trovava insieme a altre carte iconiche in questa olografia bellissima che è il raro segreto parallel troppo bello eccolo qua ve lo faccio vedere guardate che bello il parallel secret è bello drago bianco è sempre bello sempre sempre bello c'è mint un bel discino si va a letto bello caldo dai quello che diciamo sempre se si può se si può si cerca di comprare la carta più iconica e nel grado più alto possibile se si può perché il collezionista si sta aggiungendo sempre più dettagli comunque sempre più limitazioni anche il grado più alto possibile è quello dove il collezionista perché tu inizi a collezionare qualcosa e poi dici osti avevo preso un 7 però meglio adesso prendo un 8 è uscito un 9 è uscito un 9 si va sempre a finire alla mint condition alla perfezione come tu ben sai vai cos'è quello questa è una cosa che non ha messo rimatta o fa vedere perché è meravigliosa che cos'è l'uomo invisibile è l'uomo invisibile ma dove l'hai trovato mi spieghi un attimo la storia di questa roba siccome colleziono un po' di tutto colleziono anche queste idee strambe o idee geniali e questo qua è un'idea geniale questi qua vendevano la confezione dell'uomo invisibile che è vuota è vuota non c'è niente dentro però la vendevano ha fatto il record di vendite è andato sold out e è difficilissimo da trovare ma poi ogni cosa è da leggere leggi le frasi perché fanno scassare a Gripping End poi la sua missione è salvare il mondo dalle bambole di merda from crap dolls cioè le bambole proprio fatte di merda come non visto in televisione perché è invisibile vabbè poi realistic fake air troppo bello invisible gym che fa la parodia penso a a big gym esatto poi altre cose strane che prendo aspetta che sposto perché qua ragazzi sono migliaia di euro che sto spostando sulla mia scrivania questo è un Trump firmato da Trump originale ora vale di più con l'arresto poi tra l'altro sì ma che carta era scusa hanno fatto una serie di televisione di apprendista e se compravi le carte una ogni non so qua 500 poteva uscire firmata e questa firmata da Trump sempre per collezionare cose più strambe esatto è geniale ah questo posso svelarlo io questa è la sorpresa l'unione dei due mondi questa è una una square cut di Nidoran tra l'altro tedesca sì che se giri c'è la sorpresa c'è un back magic sempre perché Wizards ai tempi stampava magic e stampava pokemon e quindi fillerava fillerava così questa è veramente una bomba fa strano fa molto strano tieni altra iconicità super super tenetevi forte questa è veramente grossina il grado non è alto ma vedere una cosa del genere su twitch penso sia unica unica al mondo forse addirittura vai tocca a te vai vai parlando di iconicità questa è la prima apparizione nei comic di Spider-Man è Amazing Fantasy 15 dove appare per la prima volta Spider-Man troppo bello averlo in mano è bellissimo mai visto di persona me l'hai fatto vedere te ieri la prima volta in assoluto e qua arriviamo a quello che è il collezionista il collezionista solo lo vuole avere logicamente non è che lo apre per leggerlo il collezionista vuole averlo anche perché ti basta trovare una ristampa esatto quello che vuole io come collezionista lo voglio avere lo voglio avere perché è il comic più iconico di tutti quanto costa il numero uno gradato uno non per spiegare il valore alla gente ma per saperelo io questo qua questo è gradato uno che comunque lo diceva anche ieri Andrea non è male è sui 14-16 mila circa poteva andare peggio più si va su qua e sono botte esponenziali ho visto sì perché ai tempi la gente non le teneva bene il comic soprattutto perché devi leggerlo però già anche ai tempi c'erano delle persone molto si trovano i collezionisti di adesso devono ringraziare i collezionisti di prima che hanno preso il comic l'hanno messo nella loro bustina o la carta l'hanno messo nella loro bustina perché molte cose a questo non sarebbero arrivate a noi guardate si sta formando nell'inquadratura questa montagna di tesori se qualcuno entra sfonda la porta e ci dà tre cazzotti a tutti a parte vai difficile c'è il masella c'è il masella sempre il nostro allarme umano prego vediamo altro iconico questo è il playboy numero uno il primo playboy con Marilyn Monroe in copertina il playboy tutti lo conoscono è il numero uno è sempre il numero uno e quindi l'ho preso il numero uno è sempre il numero uno sì esatto è sempre il numero uno allora sai ho visto oggi che hanno iniziato a gradare anche gli albi italiani Bonelli CGC ah non lo sapevo hanno gradato di Lando esatto quindi occhio buona idea perché di sicuro secondo me prima o poi graderanno anche Topolino Libretto e lì toccherà quello da prendere toccherà a prendere mi sa ok ti andrei hai portato altro? sì allora ho portato il Charizard di cui stavamo parlando prima ah il tuo vediamolo eccolo qua guarda il più bel Charizard non c'è per me lui è il più bello proprio per la storia che c'è dietro io lo ridico per l'ennesima volta ragazzi avevamo il layout quello definitivo con le ombre messe bene eccetera l'olografia sotto la finestrina qui in bassa sinistra che in Giappone avevano sbagliato ce l'hanno andati sopra con un angolo e soprattutto abbiamo il Cosmolo che gli americani non avevano l'unica cosa è che abbiamo fatto l'errore che i giapponesi non hanno fatto non abbiamo coperto con l'olografia la fiamma mentre in Giappone la fiamma è disegnata e l'olografia non la mangia ecco diciamo così questo è il tuo 8.5 questo è quello che ho sbustato io orgoglio puro quando lo prendo in mano io mi ricordo esattamente il momento in cui l'ho aperto a me è successo con il Charizard No Rarity perché il Charizard No Rarity l'ho trovato io a Nakano sono andato io a selezionarlo in vitrina e l'ho comprato e quindi poi le gala erano con FreeWiFi è un mio amico l'abbiamo preso insieme insomma quello lì non lo potrei vendere gradare mai rimane così come l'ho comprato e è quello che stavamo dicendo prima cosa ci porta a collezionare un certo tipo di oggetto le emozioni che tanto l'altro è andato a prendere altre cose vai vai poi hai altro sì allora questa qua è una delle carte delle mie carte preferite uh questo gli spiegati che lunga questa è una una Summer Edition sì l'Hurricane sbagliato blu sì questa è la misprint più iconica di tutti che per anni è stato il mio oggetto del desiderio poi per fortuna grazie anche a Fili comunque che me l'ha venduto sono riuscito a comprarla racconta un po' raccontate dai perché è così strana questa carta con Revised avevano fatto parecchi errori di stampa e hanno fatto hanno stampato una nuova serie di carte per rimediare a quegli errori peccato che ne hanno commessi ancora di più e quindi siamo arrivati a carte di questo tipo che praticamente normalmente è una carta verde questa e quindi il layout è tutto verde per chi non non le conoscesse infatti se vediamo il costo di lancio è una foresta però le auto gliel'hanno fatto di un'isola e quindi da questo è Blue Hurricane è appunto l'uragano blu e le hanno ritirate del commercio ma qualche box è girato box bustine così sono usciti però questa quanta tendenzialmente è l'edizione più rara di Magic più di alfa sì sì più di alfa madonna santa ed è un'edizione sbagliata sbagliata completamente ci sono altri errori costi di lancio artisti sbagliati hanno fatto un casino chissà perché è molto richiesta per quello che noi definiamo il global collector quando un collezionista colleziona una carta e le vuole tutte cioè tutte vuol dire quelle che sono uscite alfa quelle che sono uscite summary play test quello è il collezionista che vuole il circolo completo di tutte quelle carte global collector c'è anche un ragazzo che mi ha venduto un po' di roba e mi ha venduto anche black lotus che si chiama lotus to lotus che lui fa tutto quello che è legato al loto cioè il cobra del loto il loto dorato il loto nero il blacker lotus è interessante sì è molto bella io infatti colleziono solo charizard ah sì esatto conosco e le vuole tutte lui vuole tutte ce l'ha fatta praticamente anche quelle stampate sulle carte telefoniche le top sun le cardas tutti dove c'è anche l'ombra di charizard va preso lui ce l'ha lui ce l'ha prego prego ragazzi tra poco ah sì fra 5 minuti si preparino gli interventisti questo è un nome che ho inventato adesso vai due robe veloci cavoli in saccoccia questa è una moneta del 363 avanti cristo e la cosa divertente è che si ha in la testa è zeus e la croce è hercules e mi era molto interessante questo tipo di moneta antica ma ma è così mi piaceva perché perché filippo questa cosa 300 avanti cristo c'è scritto sopra 363 avanti cristo perché mi piaceva avere un pezzo di storia di museo alla fine questo gradato persino io arrivo a dirti perché perché mi piaceva l'idea chiaro chiaro sì sì bellissimo quando punto quando faccio qualche asta entro in qualche casa d'asta che c'ha di tutto qualcuno aveva anche dei pezzi dell'apollo pezzi di dinosauro e varie cose e mi è apparsa questa moneta e allora l'ho voluta prendere è da prendere c'è anche il peso tra l'altro mai vista una cosa del genere è nuova anche per me tra le altre cose strane ho comprato ma cos'è questo è un libro del 1500 dopo Cristo no certo e questi libri antichi sono famosi e cioè sono ricercati non per per il contenuto ma per la copertina perché in quel tempo le copertine a volte usavano dei manoscritti che è la parte che vale di più questa qua l'ha scritta a mano qualcuno nel 1400 e la usavano come copertina perché se no non avevano cose per fare la copertina quindi la cosa più valida è la copertina l'odore è incredibile bellissimo però non è gradato questo boh bene c'è un po' di tutto sì sì ho notato io colleziono anche come abbiamo detto prima giocattoli vintage questo qua è un po' perone anni 60 della ledra tanto questo qui ha un aneddoto un po' particolare mi hai detto che te ne avevano mandato già un altro no allora questo qua è italiano quindi l'ho trovato qua ci sono i vari paesi hanno le loro aziende produttrici e quella colombiana ne ha uno abbastanza bello di paperone l'ho trovato perché qua sono molto rari e il ragazzo il ragazzo me l'ha spedito me l'hai regalato una cammetta sì sì un topolino quando sono venuto con ospite del Mase ovviamente dalla Colombia in Dogana si sono fatti due domande ho detto ma ci sarà magari dentro la sorpresina me l'hanno fatto a pezzi praticamente col trapano il taglierino me l'hanno davvero fatto a brandelli e mi è arrivato a pezzi ovviamente io ho contattato il ragazzo che me l'ha venduto da loro sono molto più reperibili e quindi è stato gentilissimo e me ne ha mandato un altro solo che abbiamo avuto l'accortezza di stampare non c'è dentro niente non c'era il dessert di stampare un foglio tradotto in tre lingue italiano inglese e spagnolo con scritto che sono giocattoli da collezione abbastanza delicati si possono smontare quindi non è necessario farli a brandelli potevano ispezionarli tranquillamente senza distruggerli infatti per fortuna quello dopo mi è arrivato sano bene e quanti quanti ne hai di questi e anche lì mi è sfuggita un po' la situazione hanno riempito tipo due o tre stanze ma adesso con lo spazio voi come fate vabbè per le carte ok ma per le cose per gli oggetti i più pazzi sono belli ingombranti ci vogliono vetrine apposte e tutto infatti adesso che sto facendo casa con la mia fidanzata farò una bella selezione di quelli che porterò a casa perché se no casa nuova la riempio già il primo giorno ma voi avete camici tra virgolette normali cioè che non collezionano eccetera sì sì e cosa ne pensano che siamo pazzi non lo so però come stavamo commentando prima a tavola ultimamente è cambiato un po' la concezione del collezionista di carte o del collezionista di oggetti strani o di comic prima era vista un po' peggio come un outsider un po' un nerdino un chic esatto e adesso è cambiata quindi alcune editura sono invidiosi ma che bello vorrei anche io un spider o il michael jordan cioè più facile il michael jordan non messi però comunque si stanno avvicinando anche altre discipline ti è rimasta impressa questa cosa non so come spiegare no no ma va benissimo io lo apprezzo un botto come termine entra in gioco anche il fattore nostalgico quindi magari uno non li colleziona però lo vede e dice anch'io da piccolo ce l'avevo e c'entra dentro quello importa molto sei fregato ormai è quasi strano non avere almeno una di queste passioni esatto diciamo che il collezionismo è una passione sana finché non fai fuori tutti i soldi finché non vai a mancare tutto però c'è un passatempo bello che consiglio a tutti è bello avere qualcosa a cui dedicare il proprio tempo libero io dico che sono il collezionismo è tipo non una spezia ma i condimenti della vita cioè quello che te la rendono un po' meglio ecco quella che ti ogni giorno guardi una nuova inserzione e ti arriva quel pacchetto sistemi è bello che arrivano i pacchetti sempre bello chissà qual è delle 20 spedizioni che avevo questa settimana che mi arrivava prima di una sorpresa è sempre Natale praticamente sì sì noi praticamente a New York abbiamo un amico un grande amico Francesco salutiamo ciao Francesco grazie di cuore praticamente lui ci fa il favore di ricevere la nostra corrispondenza ah il middleman i nostri oggetti praticamente noi due o tre volte all'anno lo andiamo a trovare e portiamo a casa tutto quello che arriva lì e che lui gentilmente riceve per noi peccato che a un certo punto è arrivato il covid e lui per due anni lui per due anni gli si è accumulata roba su roba e quindi noi quando dopo la pandemia siamo andati altro che Natale lì abbiamo fatto dieci Natali insieme abbiamo spacchettato infinito cioè è voluto più di un giorno per aprire tutti i pacchi che c'erano lì bellissimo però ecco molti dicono e poi intanto moderatori preparate i primi interventi così appena vi do il via facciamo entrare molti sostengono che questa passione implichi il fatto di spendere tantissimi soldi però io non sono d'accordo su questa roba perché si può collezionare no chiaramente a questi livelli però si può collezionare avendo delle grandi soddisfazioni con un budget anche minimo modesto io ho detto sempre la più antica più iconica però puoi farti anche collezioni di Charizard di base set unlimited o dell'artista che ti piace o dell'artista che ti piace cioè nel collezionale ci sono un sacco di livelli un sacco di livelli per investimento è sempre il migliore il primo migliore stato però per la collezione per riempire il tuo quaderno con il base set dei Pocom perché ti piacevano perché ci giocavi da piccolo la puoi fare in italiano base set al limite normale ma proprio easy ti accontenta anche delle condizioni la trovi anche più facile cioè fai anche meno fatica a trovarla ma poi non per forza un hobby deve essere costoso cioè c'è chi colleziona bustine di zucchero c'è chi colleziona tazzina del caffè tappi di birra madre mia è vero c'era uno le capsule dei vini degli champagne le artine della Monster sì c'era uno i grappoli sono credenti collezioni gratis sì sì c'era una troppo bella che collezionava le borse quando ti sentivi male in aereo ah sì ah sì che l'aveva dell'Air Force One ne ho visto uno ne ho visto uno di persone un giapponese che andava lì rufolava le prendesse e la più rara qual è la più rara è quella dell'Air Force One e perché? come fai a avere la borsa dell'Air Force One c'è la borsetta per invitare ah già è vero per finire la collezione è vero che scemo bellissimo mi sa come è venuto in possesso di questa cosa qua con qualche amico con tati oppure puoi anche mostrare ora sono un collezionista giusto di queste cose gli mandi in Instagram e magari la mente anche gentile ti manda anche le cose anche gli artisti mandano cose senza problemi bellissimo è bello diciamo che il miglior collezionismo è quello della condivisione ti metti lì ti scambi aiuti il tuo amico che poi un giorno ti ricompenserà aiutandoti bellissimo direi di dare il via agli interventi ragazzi siamo proprio quasi puntuali siamo anzi con due minuti di ritardo e vediamo sentiamo cosa ci dovete chiedere io spero sempre nel dissing nell'aggressività ma non trovo mai nessuno già in tante puntate vai affanculo vai provvediamo ciao sono il primo interventista ciao a tutti hai già abbracciato questa definizione vedo certo come ti chiami tesoro come state tutto bene come ti chiami Nick o nome cosa fai Nick fai Nick Bernatwitch ah Bernatwitch mio padre assoluto certo dimmi tutto no in realtà scrivo pochissimi in chat vabbè ti abboni sempre però ho tre domande ho tre domande e poi mi dici te quando il tempo è troppo e me ne vado via non ti preoccupare amore vai 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 allora la prima domanda io ho ricominciato a collezionare da due anni però io amo collezionare più che avere cioè forse non più però mi piace avere l'oggetto fisico che ho tanto bramato in casa però io trovo davvero bellissimo il percorso la ricerca il cercare l'oggetto aprire i siti cercare il prezzo giusto il venditore eccetera quindi in maniera indiretta avete già risposto un po' però voi è una noia è una cosa che fate con fatica o vi piace la ricerca perché mi tiro su le braghe sì sì no no è bellissimo bellissimo come dicevo è un'avventura una caccia al tesoro è proprio anche uno studio e quello di cercare di avere tutti gli oggetti per avere la conferma che il tuo studio è ok che hai la biblioteca generale di tutti gli oggetti quindi hai fatto diciamo che hai fatto i compiti quindi sai che quell'oggetto è vero quell'oggetto che ti manca per la collezione no no è proprio uno studio un itinere necessario un passatempo incredibile scusami no no Berna ti posso fare una domanda ma te frequenti anche i mercatini cioè vai tipo ai mercatini a cercare magari a trovare il colpo di culo oppure no le robe che collezioni non c'entrano niente con i mercatini no io colleziono allora io prima di tutto sono uno studente universitario scrocco i soldi ai miei genitori quindi non è che ho sincerità prima di tutto sì 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 certo certo non ho la disponibilità economica grande io colleziono magic da due anni ma nel mio piccolo nel mio budget poi ho cominciato adesso a collezionare le naruto kai che sono questo set di carte incredibili secondo me però poco conosciute naruto kai naruto kai a 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 kai è un set con la licenza di naruto ma non ufficiale bandai che però secondo me caga in testa le carte della bandai ma di brutto a livello di olografie di artwork di fattura di tutto e quindi queste carte purtroppo non sono reperibili nei mercatini eh no penso proprio di no esatto e quindi vado di card market per le magic oppure fiere negozi e cose del genere o scambi con gli amici pochi che conosco che le collezionano e le caio si comprano addirittura scambi fai ancora eh con i pochi amici che sbustano o che comunque comprano bello anche il fascino dello scambio si è un po' perso nel tempo purtroppo purtroppo sì e poi vai con le altre seconda domanda eh ok appunto legato al fatto che io ho una pochi soldi sono povero come uno schifoso vabbè ora siamo partiti da una cosa modesta a un povero no vabbè no vabbè nel senso in relazione in proporzione buca te alla terza domanda non ci arrivi secondo me se continui sì eh scusa vado più veloce scusa no no non per quello perché ti sta per scoppiare il cuore ti sento anzimare vai 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 dimmi dimmi eh sono fatto così è già tanto che non rutto eh no vabbè non è necessario mio padre assoluto però vabbè no 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 era una cosa mia comunque io volevo chiedere se avere tanta disponibilità economica avere tanti soldi poi non rovina un po' il gusto della ricerca appunto del collezionismo cioè se io magari io esempio in un anno io col mio budget ho collezionato l'archivio mistico di magic che sono 800 euro ok mettiamo una persona con uno stipendio 800 euro magari lo vede dopo due minuti comprato in blocco ok eh ma non è più bello è più bello sei tu che decidi a sua effazione cioè per esempio io con i box di Naruto Kai costano l'uno 30 euro me ne sono comprati 30 e poi belli 30 box quello dipende dipende da te dipende da te e non è peggio non è peggio avere tanti soldi e comprare subito tutto non c'è l'effetto a sua effazione dopo un po' non ti dà più niente chiedo a voi che voi chiaramente guarda ti dico di no l'unico problema che si crea in questo processo cioè ho acquisto in blocco io per esempio lo posso dire pubblicamente ho acquistato l'altro giorno a rate Arabian Nights completa è sempre affascinato è stato seccato come set l'ho preso per intero ma c'è il cazzo ritto da qui a Vicarello cioè e non cambia nulla l'unico problema che arriva quando compi in blocco così è che vuoi trovare il pezzo sempre più improponibile ma non a livello di prezzo ma anche a livello di ricerca che magari c'hai i soldi ma non lo puoi comprare perché non lo trovi da nessuna parte o non te lo vende l'altro collezionista o non te lo vende perché sono come si suol dire loccati cioè sono pezzi talmente unici che sono bloccati a quel collezionista che non te lo darà mai esatto questo è il problema più grande cioè che alzi sempre più l'asticella lo diceva anche Andrea prima è per gli altri uguale? sì allora diciamo per gli altri scusate è per voi che sembra no ma ma gli altri andava benissimo sì è la stessa risposta sgarbato sgarbato più o meno quello che ha detto Dario comunque prima ne parlavamo al ristorante con l'avvento di internet diciamo che quella ricerca si è persa cioè o comunque prima ti andava bene completare un'edizione normale tra virgolette con carte normali adesso con internet che le carte le trovi facilmente cerchi sempre di più il pezzo sempre più raro e quindi vai appunto come dico io sul test print internet ha accelerato un po' cancellato quello che era lo scambio di prima che si andava lì con il quaderno e anche la fase di non catalogazione ma anche di comprensione di come era composto un set le rarità addirittura prima le magic non contenevano rarità quindi lo potevi capire sbustando oppure semplicemente prendendo l'oracolo e neanche il numero nella collezione se ti mancavano devi starli con i foglietti quella parte di inizia è un po' persa adesso peccato vabbè peccato però c'ha tanti anche vantaggi sì vantaggi e svantaggi c'è la terza domanda? eh sì e qua mi butto mi collego la terza domanda chiudiamo se posso con il tempo certo vai Verna se non ti fermo io poi andava vai tranquillo ok e l'ultima domanda è per chiudere ma alla fine in maniera indiretta un po' mi avete risposto è che il collezionismo a un certo punto potrebbe diventare ossessione potrebbe diventare patologia sì nel mio caso penso sia quello sì ok e io vi dicevo cioè vi volevo chiedere non vi dicevo vi volevo chiedere vi è mai capitato che di sentire dentro l'ho buttata cioè ho cagato fuori l'ho buttata di fuori ho esagerato allora faccio la domanda più diretta io prendo le tue vesci mi permetto Berna amici miei Filippo Andrea vi sentite malati? sì eh bueno io così cosa io ho la dipendenza Filippo te lo dico io sì siamo malati ma anche te proprio perché non se ne rende conto la moneta i playboy numero uno te lo posso accettare a me si infante rispette ma la moneta io ho capito ti viene di voglia di comprare di avere qualcosa che eh sì però lo vedo sano comunque una malattia sana dipendenza sana sì comunque non vi siete non vi siete mai imposti di dire ora la carta di credito lucchetto per un po' io ora basta io ho il plafon bassissimo proprio per non spendere sì dico la verità ok sì certi limiti le limiti ce li imponiamo io sì io ho c'ho una carta di credito proprio cioè con un plafon di proprio proprio la paghetta perché se no poi so già che finita eh perché è facile eh sì è vero bene 5.000 euro di plafon magari zero proprio ma di mezza vai anche più giù vai tranquillo grazie comunque Berna sei stato straordinario grazie a voi grazie grazie a voi grazie a voi ciao ciao fai meno fai meno mi raccomando esagerato no scherzo scherzo sei stato bravissimo ciao 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 è stata benissimo no no mio padre è Berna assolutamente sì sì prego il prossimo no no cinque euro al mese di plafon cinque euro al mese di plafon non ci fanno nemmeno benzina ragazzi un po' un casino oddio ragazzi ciao ciao allora io sono Cavis sì e ciao Cavis non sono un collezionista all'attivo ma lo sono stato da piccolino ok vi volevo introdurre questa mia esperienza per farvi a voi la stessa domanda ossia collezionavo le monetine degli euri sapete no che in Europa sono diverse per stare da stare a stare sì sì le monetine degli euri euro sì sì lo so ma non ho capito vabbè le 20 eure praticamente eravamo tre amici sì a farle e le scambiavamo tra di noi le tenevamo così un po' alla buona quando però stavamo arrivando al completamento io ero l'unico dei tre ad avere uno e due centesimi della Grecia rari perché le monetine più piccole è facile che le buttino via che non le usino né i salvadanai quindi erano rare dopo un pomeriggio che ricordo molto bene non trovo più queste due monete loro sostengono di non averle rubate ma erano più grandi di me di tre anni ti parlo da otto a dieci andai a San Marino completai la collezione non volendo comprare quelle due però e penso che tuttora mi manchino solo uno e due centesimi della Grecia che non scorderò mai ma quindi vuoi fare un appello cioè sei venuto qui per fare un appello a tue amiche e cercare di recuperare quei centesimi io volevo chiedere a questi figli di molti padri mi potevano ridare queste mie monetine è un appello è un appello davvero e ma come si chiamano questi stronzi allora si chiamano non fare cognomi e Giacomo Michele mi pare Sauro e Giacomo penso sia stato Sauro allora Sauro parlo direttamente a te restituisci il pezzo da uno e da due centesimi della Grecia rari degli euri al nostro fratello per favore va bene no non mi accogliono perché ci carciano ah pure ok va bene ci proviamo ti posso dire che successe anche a me una cosa del genere solo che io appena mi raccorsi andrei a casa di questo mio amico per fargli il culo perché bene o male l'età era la stessa e mi avevano inculato le biglie dei pokemon e soprattutto Mew che era la più ambita ma al solito andai a casa di Fulvio Fulvio ti ricordi sicuramente quel giorno andai a casa tua con la tua nonna e me le feci restituire bastardo bene ecco stai attento bisogna stare attenti perché qua voi vi è mai capitato di avere la tentazione di rubare qualcosa da bambino sinceramente non lo ricordo neanche niente non mi è neanche per fortuna non vi è mai successo che vi rubassero qualcosa che mi sia accorto no qualche pagamento mancato è capitato purtroppo nel business capita però che mi sia accorto per fortuna no e sempre vado in giro con dei quaderni abbastanza importanti scintillanti c'è altro amore? sì la domanda in realtà era se anche voi avevate qualche pezzo che magari in gioventù o comunque crescendo quel pezzo che non siete riusciti a prendere o che vi manca ma vorreste beh io sì ho delle carte trofi di pokemon molto importanti che ora non mi posso prendere che sono troppo difficili da recuperare e costano veramente tanto 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 vuol dire tanto sì io sono fortunatamente essendo trader viaggiando così tanto conoscendo tanta gente sono riuscito a comprare tutto quello che volevo quella che ci ho messo di più una volta ho messo quattro anni per prendere una carta che cos'era? un test print della isola Dark Ritual che sia isola che Dark Ritual è proprio insieme nella stessa carta il disegno della isola e il testo del Dark Ritual e ci ho messo quattro anni io che sono il numero uno molto per Rusconiana è uscita questa che sono il numero uno però ce l'ho fatta a volte è veramente difficile perché poi magari la trovi ma quello che dicevamo prima l'altro non te la vende non te la vende addirittura uno mi ha risposto non vendo questa carta neanche dopo che sono morto ho detto così quindi niente non c'è niente da fare mamma mia ha reso l'idea ecco bene io ti ho risposto te Andre io allora vabbè prende l'acqua tipo un Dragon Whip Dragon Whip di Magic ecco l'uomo ah io l'ho visto quella era una cosa incredibile quello lì era una cosa incredibile che hai dato via dell'edizione quello che l'avrei preso anch'io guarda perché sono fissato in quella roba cercherò due per voi due ne esistono tre due ne esistono infatti vai racconta un po' e praticamente vabbè dell'edizione revised però la particolarità è che volevano studiare un effetto holo e in quegli anni non c'era e li hanno attaccato su un quadratino olografico con l'immagine raffigurata nell'artbox con effetto olografico appunto io spiego meglio perché è così bella perché a parte un cucciolo di drago un Dragon Whip che esce dall'uovo che esce dall'uovo ma avevano costruito un modello 3D cioè un modello penso anche di plastilina perché di solito ai tempi le facevano così ed era l'effetto Ghost di Yugi praticamente cioè era un effetto profondità un ologramma 3D che avevano appiccicato sopra la carta per testare effetti olografici poi sappiamo che è finito il primo effetto olografico di Magic è il layout brillante olografico insomma però è veramente una realitaria esistono pochissime al mondo io l'ho avuto però l'ho venduta a un altro collezionista fighissimo però ti abbiamo risposto sei soddisfatto? soddisfattissimo grazie tesoro allora alla prossima ti abbraccio ciao a voi buona serata ciao 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 Dario voglio essere un collezionista di collezionisti diventeresti un serial killer in quel caso esatto però ci sta ci sono c'erano personaggi così purtroppo vabbè io colleziono cazzi che anche quello perché no mi piace sicuramente c'è qualcuno che colleziona dentro di te oppure c'è anche lì a tagliare sport i cazzi c'è il museo in Islanda di quello di cazzi? di tagliati? non lo sapevo sì sì della balena ah bello bello non so se c'è il cazzo della balena sinceramente buonasera ciao si stava parlando di cazzi scusami no vabbè è un argomento molto interessante per tutti allora mi sentite bene? sì certo benissimo perfetto allora io mi chiamo Riccardo AirCod come Nick sono un po' più piccolino di voi sono un collezionista anch'io però crescendo con nero e bianco colleziono quello non so se avete un odio perché molti hanno l'odio per quelle espansioni lì colleziono fumetti il mondo nerd lo adoro e ho un paio di domande dimmi allora parto da quella secondo me un po' più interessante in caso vi doveste disfare per qualsiasi motivazione che può essere economica o quant'altro di di tutta la vostra collezione in primis di che cosa vi disfereste oddio santo che domanda beh si cerca sempre di partire dalle cose meno importanti ma io fa una scrematura non so è complicato complicatissimo non lo so non lo so dai allora rispondi te eh no si dalle cose a cui tieni meno quali? non lo so qualche pupazzo un po' brutto si se hai qualcosa di doppio sicuramente dalle cose eh no non fai furbo no ok doppio sono bravi tutti eh no se non sono doppio è difficile molto difficile eh così casino forse guarda io ti dico togli gli amiibo ah eh no ma anche lì sarebbe dura non lo so ah proprio di quello che collezioniamo sì sì pensavo in generale no no è difficile forse gli amiibo ma anche lì togli fumetti e me li ricomprerei in Kindle Kindle non so mai la pronuncia ovunque me li ricomprerei i digitali e venderei fumetti perché quello del resto questi fumetti? no scherzavo eh eh non lo so dai non lo so è una domanda difficile molto difficile no 88 non ti rivendo gli amiibo mi dispiace niente voi invece ragazzi non sapete rispondere io siccome ho comunque una parte di trader ottimi venderei le cose che hai da vendere venderei le cose che ho da vendere ma così non vale lui ha spiegato benissimo in realtà c'è una cosa che a cui tieni di cui ti disferesti in uno specifico della vostra collezione personale personale capito eh io sì se mi hai messo in difficoltà ho perso cioè io mi arrendo non so proprio cosa forse no non lo so perché poi non vale per esempio venderei la mezza infatti perché tanto è un 1.0 però per poi comprare capito 3.3 4 non ha senso niente ci hai sconfitto su tutta la linea sì è l'unico va beh speriamo che alla prossima sappiate rispondere è più facile dimmi nel collezionismo c'è sempre un obiettivo da raggiungere che poi una volta raggiunto si tramuterà in un altro obiettivo qual è all'attuale il vostro obiettivo a questo so rispondere e ti faccio anche la risposta da guappetto proprio da che si mette il cappellino al capofamiglia il mio scopo era divertirmi col collezionismo perché obiettivi grossi li ho già completati tutti volevo Black Lotus volevo la beta l'ho presa ora ho preso Arabian Nights che è addirittura un extra Pokémon ho fatto tutto mi sto divertendo cioè vado in Giappone quando trovo delle carte che mi piacciono di Duel Masters di Pokémon di Yugi me la prendo e me la porto a casa per il piacere di collezionare guardarmene e via quindi sono a posto io mi sto parecchio divertendo col collezionismo io più o meno uguale perché come ho dimostrato che ho comprato le monete quando faccio aste di carte di magica mi appaiono anche altre cose di Pokémon quando vedo qualcosa che mi piace lo prendo però non sono non ero alla ricerca delle monete di Carlo Magno però le ho viste mi piaceva l'idea e allora le ho comprate quindi all'attuale all'attuale non avete più quell'oggetto o quel pezzo che proprio dite lo voglio o non posso smettere di collezionare no se te mi chiedi di costruirmelo in testa non mi viene cioè non mi viene proprio perché anche l'illustrator è inutile anche sognarlo perché ce ne sono pochi costano 300 400 mila euro mezzo milione ma dove cazzo lo pigli ma poi non ci spenderei nemmeno così tanto per una roba del genere non ce no c'avevo il Cangas Campadri genitore figlio ai tempi ma anche lì boh non me ne frega cioè se lo trovo un giorno ci posso pensare ma non è così e non c'abbiamo niente da diventare matti da diventare matti però abbiamo altri abbiamo per trovare tutte le cose abbiamo fatto fatica io ho fatto fatica sì sì è super positivo però il fatto che non c'abbiamo niente da certo a cui ambire io calcola che il il caos orb che non trovavo mai in condizioni perfette non l'ho trovato per due anni l'America ha riaperto dopo il covid ma è andato mi pare a Las Vegas e ha trovato il caos orb ma è stato un miracolo o all'isola vulcanica perfetta che non si trova mai c'è una vulcanica zicca e nemmeno di obono porco due nemmeno Caravaggio la saprebbe disegnare così bene bellissima e anche il caos orb bello bellissimo sono veramente felice però ci sono voluti tanti anni per trovarli ecco ecco qua tempo per un'ultimissima proprio veloci collegandoci al fatto del paese io abbio l'acqua perché sennò la paghiamo tutti poi voi rispondete andrea tra l'altro te andrea hai risposto no praticamente sì sì io vedo subito vedo spesso queste mega collezioni trattando poi le carte magic per esempio vedo sempre queste super collezioni e penso a livello di di magic qual è il mercato in cui i pezzi rari sono più facili da trovare che poi in se per sé è una paraculata di domanda perché dipende però in linea di massima uno in quale mercato dovrebbe cercare secondo voi adesso cioè magic car market è un sito internet che ha una grande offerta ma quello che ha dato la più grande spinta ultimamente a magic sono i gruppi in facebook perché sono proprio pubblico obiettivo se tu vuoi le carte old school c'è il gruppo di old school se vuoi le carte alfa lì c'è la gente che vuole le carte alfa e offre carte alfa proprio ricerca a pubblico obiettivo facebook ha aiutato tantissimo il mercato per questo per questa domanda che hai fatto tu bene bene perché io essendo appassionato di pokemon ero curioso se per il mercato di magic era la stessa cosa va bene sì 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 è così ed è anche c'è anche uno svantaggio nel gruppo facebook c'è sempre una lotta intestina senza senso molto tossica però questo è un mio parere poi ci sono gli esperti che fanno gli esperti ma fisico mercati fisici invece ovvio negli Stati Uniti e in Giappone si trovano carte più facilmente rispetto all'Europa per esempio in Giappone pokemon eccetera negli Stati Uniti magic così magic per le carte più vecchie agli Stati Uniti è il posto numero uno e logicamente per i giapponesi fu il giappo il giappone i giapponesi sono il popolo che gioca di più penso a magic e a giochi di carte in generale gli piacciono proprio le carte a loro piacciono ma se ricorda le carte a posto sono contento mi dicevi che ci sono tanti pezzi italiani anche di questi che vengono venduti in Giappone perché in Giappone sono anche appassionati di questa roba fisica e solo italiana su licenza italiana sì sì sono molto apprezzati anche in Giappone questi giocattoli di gomma vintage e in particolare questi qua italiani che secondo me come fattura sono superiori a quelli del resto del mondo perché ci sono di quegli anni Argentina Messico anche Olanda vabbè Belgio anche europei francesi spagnoli però quelli italiani sono di fattura superiore secondo me e sono molto apprezzati anche in Giappone bellissimo giapponesi che non si arrendono mai in qualsiasi tipo di hobby passione o lezionismo sempre a capofitto ci si butta grazie mille tesoro sei stato stupendo grazie a voi ciao tesoro ciao 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 bel intervento oggi mi piacete tanto ragazzi su questo argomento bene 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 tante domande interessanti anche se vorrei quello che mi incalza mi dice c'è Dario smetti di spendere so di figlio di puttana ma non lo trovo mai 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 qualche volta che possa sfogare la mia ira su di voi scherzo è un po' di sfogare assolutamente prego il prossimo ciao buonasera ciao tesoro dimmi tutto ciao ciao io sono Andrea in arte Aizen e niente pensavo di poter dire due cose carine sul collezionismo qualcosa di interessante spero eh dimmi tutto eccoci allora sul collezionismo io devo dire secondo me che tra l'altro magari ti ricordi abbiamo fatto fatto un intervento al Games Week al pub dell'amico quindi noi siamo di di nuova conoscenza ecco vabbè a parte queste cose sì sì mi ricordo infatti molto bene ogni collezionista sfortunatamente è collezionista perché magari qualche piccolo traumino ce l'ha avuto non è detto è ovviamente nel mio caso praticamente allora facevo parte di quelle persone che magari non si ritrovavano nelle compagnie legate che ne so a quelli che oggi andiamo a giocare a calcio o no io magari rimanevo nel mio ero anche un pochino più bullizzato da piccolo e quindi sono sempre stato molto in disparte e in primis quindi ho avuto sempre compagnie piccole di persone non facevo parte di un qualcosa di più grande anche il fatto di non avere delle figure genitoriali mi ha sempre portato a volere a volere avere tante cose è riunisola praticamente mi ha viziato parecchio non ho problemi a dirlo e da lì credo proprio che è sfociata questo trauma infantile mi è poi sfociato in quello che è diventato il collezionismo ok ok e mi ha portato a collezionare delle robe particolari cioè non cose esageratamente pazze però che quando le dico a qualcuno un po' per pazzo mi prende cioè tipo allora ho tutto ciò che riguarda il merchandise uscito in Italia di Jojolyon ma veramente cioè braccialetti la borsa che dà Don Luca Comics stessa cosa per Giungito e anche tutto ciò che riguarda Iroyuki Takei tutto cioè quindi tutta la memorabilia dedicata a un solo autore a un solo manga esatto quando amo veramente tanto una cosa voglio avere tutto e la pazzia più grande è stata dato che tramite mio fratello poi io amo il vintage tramite mio fratello avevo delle guide pokemon di oro argento e rosso ho detto basta le voglio tutte tutte le guide ho tutte le guide pokemon anche dei giochi di ultima generazione che a me personalmente hanno pure fatto cagare da x y in poi però per collezionismo le ho prese tutte Dario sei diventato troppo professionale ma cosa dovevo fare manda l'affanculo scusa lo sto ascoltando comunque ti posso fare una domanda specifica dato che hai fatto quell'introduzione di essere un'isola praticamente con sempre un po' da parte eccetera ma effettivamente collezionare queste cose ti ha aiutato poi? sì perché è brutto da dire però a livello personale a me le cose materialistiche danno molto sollievo io quando vedo quella pila di guide pokemon in casa mia dico ah cavolo c'è qualcosa che mi rende felice poi il collezionismo ti fa anche indirettamente ti fa conoscere anche varie persone e poi lo reputo anche un hobby che mi diverte cioè andare a cercare nello specifico le cose questa è una cosa comune scoprire che ti manca una cosa capire quando è stata creata quella cosa dove è stata distribuita a me piace tanto cioè ci soffri perché dici cavolo mi manca quello ora devo trovare pure quello sono altri soldi un po' masochista anche però cavolo a me piace no più che altro mi piace il fatto che tu effettivamente ci abbia guadagnato dal collezionismo cioè non solo a livello di soddisfazione personale ma anche il fatto che tu sia diventato amico anche di altre persone quindi da isola sei diventato persona accompagnata da altre persone che tra l'altro condividono con te la stessa passione quindi super top sì sì perché poi avendo anche ovviamente non sono qua per farmi promo avendo anche il profilo tiktok quando faccio i video ho fatto un video tutto ciò che esiste in italia di giungito e poi da lì ho scoperto che per esempio mi mancava il volume di tomi stampato da lazar che era il volume monco con solo metatomi di giungito mi ha fatto molto piacere sia scoprire che mi mancava qualcosa e quindi farmi insegnare qualcosa e insegnare a molti mi ha fatto molto piacere bellissimo sono veramente felice quindi hai avvalorato quello che dicevamo prima insomma anche voi mi avete raccontato a tavola che quando andate in giro ce lo fate soprattutto non tanto per andare all'evento di magic ma perché così potete condividere i nedoti e cazzate sì sì perché poi anche tutta la roba di Takei quando becco una persona che non so ha visto Shaman King io ho il mio bagaglio culturale su tutte le cose di Takei che mi fa dire guarda ti è piaciuto Shaman King guarda che Takei ha fatto Buzuzon da qui poi andrà a prendere tante cose Idemaraki con Bao andrà a riprendere tante cose gli faccio scoprire cosa ne so Jambor dei fanbook che vengono a costare poco sui personaggi di Shaman King è figo ultimo che vabbè adesso ultimo è una roba quello di Stan Lee e Takei ho trovato 20 euro su Vinted lasciamo perdere anche lì la ricerca di come ho trovato ultimo di Stan Lee Takei su Vinted bellissimo cioè cavolo è una figata quindi praticamente hai fatto diventare anche questa tua passione una roba divulgativa esatto perché poi io miro anche a quello a fare divulgatore sui miei canali quindi da cosa passo a cosa che da faccio agli altri a me stesso ti capisco benissimo cioè apri i pacchetti spiegare l'art a me piace tantissimo lo sai quindi è bello sì sì esatto esatto cioè lo faccio sì l'avevo fatto anche con le carte della Lore di Flashback è bellissimo punto iscrivativo Flashback ragazzi per recuperare ci sono i box scontati sul sito di Federick questa è una cosa che ho voluto aggiungere comunque ti ringrazio tesoro allora ti abbraccio grazie per la condivisione grazie a me da te grazie mille buona serata buona continuazione ciao 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 vabbè sì sì mio padre era bellissimo questo parere positivo questa nota di colore meravigliosa che ne pensi della collezione di bottiglie di coca cola tutto è bellissimo racconta la storia dell'America attraverso il design di una bottiglia a me piacciono ho iniziato a collezionare le lattine e le bottiglie però le lattine c'era una leggenda che diceva troppo scoppiavano dovevi aprirle ma in teoria per le collezioni devi tenerele chiuse però mi sa che ha detto buonasera sì 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 ero interessato intanto a questa cosa della collezione comunque buonasera smirzato sono ciao smirzato sono ciao smirzato è uscita un po' la monta urbana come stai smirzatone smirzatone grande fan di Warhammer grande Warhammer Duel Master manga anime videogiochi hai visto che Duel Master ti ha flexato nel volto coglione quando sono tornato dal Giappone ah no non l'ho vista recuperare qua attenzione tocca tocca io ho giocato a Space Marine Epic che era il Warhammer però nello spazio per piccolini sì quelli sono quelli più piccoli no con lo spazio era Butterfit Gothic ma che va non fa non con lui è tremendo per queste robe tremendo vabbè smirzato dici tutto che volevi raccontarci no vabbè ho detto avevo tre domande che mi hanno preparato dimmi tutto la prima il pezzo che più vi siete pentiti di aver collezionato brand un pezzo singolo qui si apre tutto guarda tutto tranne quello che c'ho qua tutto quello che hai visto e le lego ti riguardi su lego volevo fare la città lego come nei film americani ho capito che era troppo dispendioso e poi non avevo la creatività per calcolare gli spazi le strade ho venduto tutto ma più che altro lego anche per lo spazio lo spazio soprattutto ma anche ora costano un boato cioè i creator con l'hotel e le cose sono belli però è un bel passatempo costruirle tutto però occupano un sacco di spazio io ho preso quando c'è stato il boom di tutte le cose ho preso anche la figurina di Mike Tyson una delle più mitiche dei rookie però dopo un po' visto che l'avevo presa tanto per prendere era meglio prendere altri oggetti di Mike Tyson e non la figurina avrò preso un po' di guanti di Mike Tyson filmati che tra l'altro c'è una di uno palmetta però la figurina nel caso di Mike Tyson non ha avuto tanto successo infatti l'ho venduta un guanto nuovo però firmato a Mike Tyson molto meglio e beh la figurina molto meglio la figurina sì decisamente così vabbè ci sta ecco qua abbiamo fatto vedere anche il guantone sministratone bene e poi Andrea Andrea rispondite io tendenzialmente magari una merda ma prima di iniziare a collezionare qualcosa ho sempre valutato bene quindi se magari era una cosa che alla fine poteva non piacermi non l'ho neanche iniziato quindi niente sei stato molto accorto sì io te l'ho detto te l'ho detto le lego è stata veramente una perdita di tempo io videogiochi pokemon ce l'ho iniziato a collezionare fisici poi una certa spade scudo mi ha fatto calare la voglia ho rivenduto tutto c'ho anche riguadagnato cioè spade scudo ti ha fatto talmente tanto schifo che hai rivenduto tutto sì c'ho anche guadagnato qualche sordo no quello ci manca erbe però peccato eh sì vabbè io ho agorafobia firmata da Dario Mocio non sei l'unico Simone io ce l'ho a casa la prossima volta te lo faccio filmare vai 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 tanto li firmo ancora vai vai prego dunque seconda domanda che mi hanno segnato vabbè un brand appunto che avete sempre voluto di interesse a provare a collezionare ma per un motivo o per un altro che fosse spazio che fosse soldi qualsiasi cosa non l'avete mai fatto eh vado io vai io come dico sempre l'ho detto anche a tavola il mio più grande pentimento per me che amo le carte a dismisura è non aver mai collezionato per disinteresse totale le carte sportive cioè io non amo lo sport non amo i personaggi dello sport allora no così sto così non amo lo sport però mi piacciono soprattutto certe carte anche il fatto di inserire la maglietta dentro il pezzo della maglietta il pezzo del cappellino quello mi interessa però non mi fa talmente tanto schifo con la roba che non mi sono mai avvicinato no purtroppo no no io invece una cosa che mi ha sempre affascinato ti stai andando sempre più in live davanti al microfono se no vi sentiranno mai mi ha sempre affascinato ma non ho mai collezionato sono le memorabilia legate al cinema ai film oggetti di scena quelle cose lì però c'è talmente tanta contraffazione che mi fai a sapere se è stato usato davvero o no però sarebbe per i costumi bellissimo bellissimo ho visitato certe mostre bellissime c'è il fascino proprio di collezionare qualcosa che è stato usato in un film perché a me comunque anche il cinema mi piace molto vedere i film e quindi gli oggetti di scena mi hanno sempre affascinato però non li ho mai collezionati beh ci sta ci sta sarebbe figo smirzato ma che stai facendo il presepe che è questo casino stava prendendo l'uovo di Pasqua sono mosso la sedia ti ho sentito in casa pensavo tu stessi dipingendo dei pupazzetti stavo dipingendo mentre aspettavo prima lo sapevo prego non mi viene in mente non mi viene in mente boh e allora smirzato niente cioè io te l'ho detto terza domanda terza domanda consigli non mi è chiuso perché tanto a collezionare ho collezionato già però per chi sta ascoltando altro consigli per chi vuole iniziare a collezionare poi le consigliereste passi da fare passi da non fare beh allora innanzitutto valutare bene le tue finanze perché sembra una cazzata ma purtroppo se non valuti bene inizi con una roba non ti fermi più e poi arrivi a zero non hai più niente per la tua vita di tutti i giorni e poi soprattutto devi conoscere prima di partire in tromba con una collezione devi documentarti a fondo come fa tra l'autorandea prima di gettarti perché in un certo mondo ci può essere tanta contraffazione oppure ci possono essere inculate se trovi il primo venditore della tua vita magari un venditore di merda oppure ti fa dei prezzi che ti fanno credere che quella passione ha un prezzo invece è completamente tutta un'altra realtà ti devi mischiare nelle community prima di diventarne parte totalmente quindi questo è e soprattutto collezionare qualcosa che ti piace davvero che ti dia soddisfazione collezionare non guardare solo l'aspetto economico non collezionare qualcosa perché vale varrà e ci guadagnerai a collezionarla ma colleziona qualcosa che ti piace se ti piacciono i tappi delle bottiglie colleziona quelli perché ti fanno star bene non collezionare per forza le carte perché tra dieci anni varranno di più o cose così no più che altro non ti devi nemmeno vergognare delle collezioni che fai perché magari c'è la collezione di serie A no la collezione di serie A è la tua collezione e poi va un altro consiglio no vabbè ah sì non invidiare gli altri che è una cosa molto importante perché l'invidia veramente ti genera solo male e diventi veramente una merda di uomo anche una cosa che dovrebbe essere pura passione basta non un lavoro già ci sono già tanti giramenti di coglioni al lavoro colleghi stipendi che non arrivano capi e tutto se ti fai diventare una passione alla stessa stregua di un lavoro è finita cioè proprio smetti subito io consiglio che sempre do a tutti compatibilmente a quello che avrete detto voi è quando inizi una collezione compatibilmente con quello che puoi spendere o vuoi fare è comprare la carta cioè l'oggetto più iconico e in miglior stato possibile questo è un consiglio da esperto però devi aggiungere tutte le altre cose affetto economico che ti piaccia eccetera ok più iconica e migliore stato possibile non è facile però è una cosa da tenere in mente perché dopo compro tutto il resto e poi alla fine compro il charles se riesci a iniziare con il charles tutto il resto è molto più facile ah quindi dici di levarsi il sasso subito esatto ok perfetto ho capito c'è altro smirzatone no a posto così grazie grazie allora mi raccomando grazie a voi invece voglio farti una domanda io smirzato perché non abbiamo mai parlato cosa ci trovi te nei warhammer questo ci devo è importante per me lo devo scoprire a parte il rilassarmi con il dipingere mi metto là pennello aerografo quello che è io non ci avrei mai pazienza poi sono totalmente demente con quella sbaglio farei una merda sicuro guarda il 90% di chi ha iniziato inizia così a fare schifo al cazzo poi ti putti a sciogliere dentro allo chanticle e ricomincia a dipingerli va bene è già qualcosa però non mi hai convinto totalmente e poi oltre a questo ci giochi anche con gli esercitini ho fatto un paio di partite con la scorsa edizione però durano un botto le partite adesso già con la prossima con le previsione che stanno facendo ultimamente perché adesso a giugno esce una nuova edizione nuove miniature e tutto quanto cambiano le regole semplificano abbissalmente sembra anche più fattibile giocarci ok no io spero di rimanerci lontano per tutta la mia vita perché ho paura tantissima paura di quella roba perché sono troppo belline le miniature no sono bellissime poi dipende un attimo come la prendi io per esempio non mi vado a prendere tutte le fazioni per averci il mega esercito di tutte le fazioni mi basta quello che mi sono fissato io sono gli ultramarine che già là ho fatto la follia di voler costruire un intero capitolo quindi mille space marine un veicolo servitori cioè tutti i veicoli da trasporto ma dove li metti ma dove li metti mille space marine eh vabbè cassetti ma poverini cioè fai l'esercito e fai li mettere assetti una bella pianura una bella infatti ci stanno certi ho visto c'è un passo colleziona da anni questo qui americano c'ha la stanza intera solo di modelli di marine del caos complimenti per la pazienza la bravura perché t'ho visto condividi ogni tanto sul gruppo telegram quello che dipinge è molto bello e insomma in bocca al lupo per questo grande progetto è folle progetto sì folle sì molto ti abbraccio smirzatone ci si sente tanto sempre ciao 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 io direi ultimo intervento per oggi poi passiamo ai saluti sentiamo chi c'è chi è che clicca chi è che clicca ciao ragazzi chi è davide sono davide ciao davide dici tutto ciao allora vi volevo parlare in realtà di un'esperienza che mi porto dietro un po' di rancore ma è una voce bellissima grazie profonda ma sei toscano anche sento o no sì sono differenze sono differenze dici tutto senti ti volevo vi volevo parlare di un'esperienza che porto un po' di rammarico con me perché vi parlerò di Yugi e della mia esperienza con Yu-Gi-Oh io ho iniziato sin da piccolo a giocare ovviamente con l'anime mi sono appassionato tanto con Yu-Gi-Oh e tutto il resto e il problema è che quando sono cresciuto ho ripreso avevo staccato un pochino ovviamente dal gioco ho ripreso un pochino la passione per il collezionismo delle carte il problema di Yugi riprendendo anche in maniera un po' più blanda in maniera un po' amatoriale non di certo come voi nel 2014 2015 non sono riuscito ovviamente a trovare le carte rarissime dell'inizio soprattutto si ragazzi pronuncia carte arte perché è di Firenze che deve fare scusa allora le carte insomma il problema è che prendendo magari un box di carte Yugi che costa magari 180 200 euro poi ti ritrovi dopo un anno la ristampa delle stesse carte che la Konami ti ristampa a go go e quindi ti ritrovi con quanto è alto il rischio che l'oggetto si svaluta poi nel tempo perché esce la stessa ristampa a maggior ragione dovresti fare una collezione che fai per te cioè che ti magari vinta sì Yugi la facevo per me poi però vedendo un pochino che l'unicità della cosa cadeva nel vabbè tanto dopo un anno escono di nuovo le stesse carte o con una nuova rarità con una nuova olografia sai quelle robe lì che fa Yugi sì esatto è un grande problema di Yugi questo qua mentre Magic lo ha diciamo frenato un po' con la reserved list cioè una lista di carte che non venivano e non possono essere più ristampate anche se adesso le hanno ristampate con un dietro delle carte differente solo per collezionisti però per giocare per le vecchie collezioni non le possono più rifare uguali quindi si è salvaguardata un po' le collezioni iniziali però Yugi anche io giocavo Yugi Yugi è la pronuncia spagnola perché il vero test è in Spagna poi dico Revised ah dice Revised ok e giocavo anch'io Yugi e quando ho cambiato le regole e quando ho iniziato a ristampare l'ho lasciato un problema di Yugi che infatti anch'io non mi sono mai avvicinato a questo gioco nonostante mi piacessero gli effetti del foil dell'olo è che giravano molti falsi anche quello cioè nelle cartolerie non è più così ok meno male ma all'inizio quando devastante ma ce n'erano davvero tante erano più i falsi sì sì ma proprio direttamente dalle bustine i box sembravano uguali le aprivi erano sì poi c'erano vari gradi di falsità sì sì c'erano quelle con degli effetti holo tutti a rombi stranissimi quelle erano quelle cinesissime cartoncini veri altre invece erano su questo c'erano anche i tech e tutto però falsi quindi era troppo alto il rischio di spendere soldi per delle cose false che mi ha fatto allontanare da quel mondo qual è l'aneddoto tesoro? è che proprio qualche mese fa la mia ragazza il fratello della mia ragazza mi ha portato questo pacchetto di carte di Yugi questa ventina di carte di Yugi guardando un pochino guardando erano tutte false praticamente eh vabbè ma è una cosa normale 18 erano false eh vabbè sti cazzi sì vabbè erano giusto per ah ma fa anche il suono sì c'hanno il sonaglio non lo faccio più però levamelo perché sennò sto tutto il giorno qui bene comunque ti abbraccio tesoro ti abbraccio forte grazie grazie mille grazie mille a te ma ecco facciamo per chiudere voglio farvi un'ultima domanda dato che ho sentito cosa ne pensi però loro non sanno cosa ne pensate che cosa ne pensate del dell'unico anello di Magic io io vengo sono quasi puro Magic e penso che hanno avuto un'idea stupenda bellissima bellissima proprio da numeri uno perché ha fatto sì che tutta la gente di altri giochi altri brand altre discipline conosca adesso Magic perché tantissima gente extra Magic mi ha chiesto ma avrai i box di unico anello quanto pensi che valga e l'hanno fatto perfetto perché è una carta unica one on one giustamente non è che è il soaring l'unico anello la carta unica che unisce il mondo del Magic e il mondo del Signore dell'Anelli che ha un seguito incredibile e hanno fatto benissimo bravi 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 Andrea cosa ne pensi la stessa cosa io penso che sia un'idea terrificante io sono totalmente contro se non mi piace molto come idea a parte che la carta è brutta secondo me bisognerà vedere è uscito l'Arthur ma l'effetto magari secondo me qualcosa di particolare per forza gli devono mettere però l'Arthur che a me non piace e poi non mi piace perché questa roba dell'unicità io la posso capire con una carta da torneo che vinci se vinci un torneo il modo in cui viene distribuita a parte che la trovi solo nei collector booster ed è un po' una roba brutta nel senso che se vuoi provare a tentare cioè se vuoi tentare di trovare quella carta lì devi comprare non il pacchetto normale ma il pacchetto costa di più però no però dai ti danno anche la possibilità di trovarla nei bundle i bundle è un insieme di pacchetti più economico dove escono due o tre pacchetti normali e un collector booster lo trovi nel collector booster sì però il bundle è più economico che comprassi un collector booster box l'hanno fatto per diciamo placare l'ira di quelli no solo nel collector hanno fatto anche il bundle ci sta no a me la trovo un'idea di marketing geniale però è anche molto molto ingiusta e è un po' il simbolo di quello che sta diventando magic adesso che hanno stanno un po' esagerando con le manovre di marketing però questa sì che ha aiutato questa sì che ha aiutato a avvicinare altri mondi perché hanno fatto anche il secret l'air con fortnite sì quello mi va benissimo un secret è una cosa extra questo è un set regolare e non lo potrei mai completare io sono pro unico anello ci sta io un po' contro diciamo che l'unico anello lo puoi trovare comunque in altre versioni la uno di uno da quel fascino dell'oggetto unico la caccia al tesoro quella che dicevo prima ovviamente solo una persona la potrà trovare e chissà se verrà trovato però sì secondo me verrà trovato però ripeto lo trovo un po' un po' troppo gambling e sta diventando un po' troppo una lotteria troppo lotteria sì il modo che è una lotteria è una lotteria però la idea è ha portato tantissima gente a caso cioè gente che non sapeva neanche cosa fosse magic c'è bisogno di essere un sacco di articoli su internet però secondo me già l'espansione normale l'avrebbe portata non c'era bisogno dell'unico anello però magari mi sbaglio sai che mi hanno detto che è così controllata questa espansione da quelli del signore degli anelli che non c'è nessuna original art sono tutte digitali sono sempre stati severissimi severi veri severi veri ma bellissimo ma non vi dà fastidio collezionare una cosa sapendo che non potrete mai completarla fino in fondo io non ci riuscirei eh forse in questo caso sì perché se vuoi tutte le versioni di tutte le carte che trovi in generale ce la può avere una persona vabbè comunque io farei una cosa un po' per tutti cioè sì hai ragione Andrea c'è la versione per tutti però se vuoi tutte le versioni no pover e voi dovreste capirlo meglio di me perché volete tutto di tutto io lo voglio dai per scontato che non si avrà mai tu magari sì però probabilmente io penso di poterlo vedere avere non lo so io spero anche solo di vederlo vedere l'effetto che dicevi di vederlo di persona eh chissà come il drago il drago quello da museo sì non l'ho mai visto io nemmeno io non sarebbe bello quello che ho sul Black Lotus sì sì l'unica carta che non l'ho mai vista sono quelle e il World Champion me l'avevano offerto una ce l'hai no il World Champion no però hai visto una trophy card gigante sì sì quelle sì quelle sì quelle sì però visto dal vivo mi manca vedere il Fujuki Dragon sì sì il Fujuki Dragon e il World Champion me l'avevano offerto da comprare però non l'avevo comprato c'è anche Black Lotus con il teschio accanto quello morto quello è bellissimo che anche quella dovrebbe essere una jumbo card che hanno stampato su Duel Masters anche sì sì quella è fighissima due versioni il vecchio layout e il nuovo layout quella l'hai vista ce l'ho tutte e due una Pism giapponesissima e una col vecchio layout quella è molto bella che costa 1000 yen costa una serie quella l'ho vista dal vivo addirittura quella grossa sì sì bellissima perché era un premio dell'Eternal Week senza senso bellissimo Andrea Filippo io a parte vi ringrazio di essere venuti qua perché ti sei venuto dalla Spagna sì sì ma è stato un piacere un onore grazie a te un casino bellissimo meno male meno male l'importante è quello poi siamo andati a mangiare da babbo quindi abbiamo fatto anche l'esperienza italiana al 100% e Andrea invece sta a Milano e quindi è venuto qua comunque a trovarci era già venuto qua in studio per il Mase ti hai fatto una puntata del mercoledì magico con Mase che era di giovedì ma è uguale delle rarità speciali quindi uscirà comunque il mercoledì magico di Mase su YouTube se volete approfondire il personaggio di Filippo e se volete approfondire il personaggio di Andrea c'è già la puntata caricata su YouTube potete comunque l'Instagram vostro potete trovare ovviamente tutte perché comunque fai anche show off di varia roba molto molto Filippo troppo ricco sì l'Instagram è troppo ricco sì e poi io palmetta appunto MTG e quindi se volete scoprirli andate a vedere le loro rarità e magari imparate anche qualcosa perché no io ringrazio tutti voi per aver seguito questa puntata per me è stata la puntata bellissima perché si parla del mio argomento preferito di sempre le prossime cambieranno totalmente tema ma va bene così ci sta io mi prendo un attimino per bere ripristinare tutto e poi ragazzi continuiamo su credo Resident Evil che bisogna finire la run professionista di rank A per prendere le pistoline a dopo arrivo subito eh a dopo a dopo a dopo